No alle riforme sulla dignità degli insegnanti, il problema non siamo noi. Sciopero nazionale della scuola oggi lunedì 30 maggio, sotto accusa il decreto 36 del 2022. Le ragioni della protesta nell'intervista di TV City ad alcune docenti dell'istituto di Nicola Sasso di Torre del Greco. Professoressa Carla Abilitato, oggi sciopero del mondo della scuola, che cosa sta succedendo? Si sta scolvolgendo la scuola, si sta attaccando la scuola e chi attacca la scuola è proprio lo Stato. Col decreto legge 36 del 2022 è stato sconvolto praticamente sia l'ingresso a scuola come docenza sia per i docenti già di ruolo. Si è toccata la formazione, si sono toccati benefici economici che normalmente sono materie di contrattazione. Chiaramente col decreto legge significa che i sindacati la contrattazione è stata messa in bara e quindi non possiamo più gestire la formazione e i benefici economici. Ci sono problemi sia per le docenti di ruolo sia per i precari? Ci sono problemi per tutti. Per avere accesso al mondo della scuola come docente è necessario fare un percorso ad ostacoli che prevede non solo lo studio universitario ma anche corsi abilitanti, tirocinio nella scuola, verifiche in itinere, verifiche finali, partecipazione al concorso che hanno detto si terrà ogni anno e non solo nel momento in cui il docente viene messo in ruolo avrà obbligatoriamente un contratto part time perché deve dedicare l'altra parte alla formazione per recuperare altri 30 CFU. Chiaramente un contratto part time significa anche uno stipendio part time. Per quanto riguarda invece i docenti di ruolo devono fare una formazione triennale almeno ed è un altro gioco a premi perché soltanto il 40% dei partecipanti a questi corsi di formazione potrà ricevere un bonus, una tantum quindi non avrà sempre questo bonus sulla busta paga ma l'avrà una volta soltanto terminato il corso di formazione. Poi si toglierà. In questo decreto si lede la dignità degli insegnanti? Si lede la dignità è la cosa che mi dispiace moltissimo perché ho assistito stamattina fuori dalla scuola genitori che si lamentavano di questi insegnanti che non vengono a scuola eccetera. Allora noi proprio per colpa dello Stato che ci ha messo in una condizione di inferiorità rispetto ai genitori che non abbiamo più il rispetto di nessuno ed è ora di smetterla perché siamo stanchi. Noi siamo dei professionisti. Siamo dei professionisti che ci aggiorniamo continuamente anche autonomamente. Non abbiamo bisogno di chi ci venga a dire come la scuola di alta formazione ci deve dire che cosa dobbiamo fare. I genitori devono capire questo. non siamo delle babysitter, non siamo un asilo nido che mantiene i figli quando loro vanno al bar a prendere il caffè o vanno nella migliore delle ipotesi a lavorare ma siamo dei professionisti che dobbiamo dare innanzitutto educazione e poi cultura e istruzione a questi ragazzi. Il problema della scuola non sono gli insegnanti. Ogni riforma viene fatta sugli insegnanti perché gli insegnanti si devono preparare, aggiornare e come ha detto la collega prima io ci tengo a dire che i problemi della scuola non si risolvono sulle tasche e sulla dignità degli insegnanti. La scuola ancora oggi come 50 anni fa è fatta di semplici aule, banchi, sedie e scrivanie. Nella migliore delle ipotesi ci hanno dato la LIM o un computer. Mancano ancora spazi, mancano ancora palestre, mancano ancora laboratori, mancano refertori, mancano menze, scuole che non hanno un po' di spazi esterni partendo dall'infanzia fino alla primaria. Dunque sono altre le cose a cui il ministro dell'istruzione dovrebbe seriamente pensare? Sì ma non solo questo ministro, anche sui predecessori. Tutte le riforme sono state fatte sulle tasche e sulla dignità dei docenti perché fosse più facile dato che il corpo docenti è formato principalmente da donne e quindi è più facile. Dopo questa giornata di sciopero la mobilitazione proseguirà? Speriamo di sì, speriamo di sì. Si legge in questo decreto quello che leggiamo proprio un cambiamento radicale, addio, più che un cambiamento, un continuare su questa linea di erosione della professionalità del docente. Chi di noi non ha un ricordo di un professore nella vita? E questo è quello che bisogna lottare per portare di nuovo dignità all'insegnamento. Professoressa Anna Madonna, chi paga il prezzo più alto sono gli alunni? Purtroppo sono i nostri alunni perché sono i nostri alunni, gli alunni sono di tutti e quindi con questi tagli che faranno all'organico sia il personale scolastico, sia gli educatori e sia gli insegnanti di sostegno verranno sempre meno. Quindi questi bambini che hanno le loro fragilità, le loro difficoltà saranno lasciati solo a se stessi. La scuola perderà questo grande tesoro che sono questi eventi eccelsi dei bambini, soprattutto quelli più delicati, più fragili.